Ciao ragazzi, oggi parleremo un po' di terzine, andremo un pochino a orchestrare le terzine, le faremo girare un pochino su tutto il kit, vi ho scritto due esercizi da fare da lento a veloce, non sono difficili, ovviamente come sempre vi mando la parte, così la potete stampare e ve le potete studiare, vi faccio sentire come le ho fatte io, ok? Ciao! Grazie a tutti!